colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro ci stanno le tigre online clicca e condividi uomo che non basta mai ma ma maximi che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non si scaltro è un bre matalo matalo campero indietro la cru e di iscriverti al canale maximi su youtube se vedi tutto e di più forza fallo pure tu perché con le tigre di roma stare sempre un passo in più ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo episodio di tuning 2.0 allora oggi andremo a modificare questa auto ragazzi questa auto stile 24 ore di le man che rockstar ha inserito ha rilasciato oggi diciamo come nuovo contenuto devo dire che è accattivante a me piace questo stile di auto però per quanto riguarda il prezzo e le sue potenzialità è un po' troppo esuosa ragazzi quindi vedete voi allora si chiama scramjet per chi la può comprare normalmente costa 4 milioni 628 mila 400 per gli altri che la vogliono sbloccare costa 3 milioni 480 mila allora come ho già detto ragazzi questa auto ricorda molto le vecchie auto 24 ore di le man e devo dire che è anche molto bella a me piace personalmente però però ha i suoi però ragazzi allora in primis per modificare questa auto dobbiamo avere o l'officina nel centro operativo o modificarla nella venga allora perché non ha l'officina del centro operativo come me farà una spesa in più per modificarla oppure portatela nella venga che almeno lì la potete modificare per quanto riguarda il resto ragazzi come ho già detto esteticamente è molto molto bella a me piace tantissimo infatti penso che la terrò e che altro aggiungere ragazzi c'è una piccola pecca quest'auto c'è una piccola pecca perché io mi domando allora guardate le livree le livree almeno a mio gusto sono fighissime cioè nel senso come sono fatte ok c'è qualcuna che si ripete un po' di livree però per il resto sono fighe a me piace particolarmente questa che è comunque diciamo è abbastanza legata a una livree della sultan che comunque è molto bella e penso proprio di mettere questa ragazzi con un perlescente blu comunque sia queste sono le livree invece passando ai dati tecnici dell'auto ragazzi io non mi sono riuscito a spiegare non mi sono dato una motivazione per la quale rockstar faccia modificare quest'auto nel centro operativo o comunque nella vengare ragazzi e voi direte ma perché questa cosa è perché ragazzi perché quest'auto non ha armi quest'auto è stata inserita in warstock ma quest'auto non ha armi almeno che io abbia visto poi non so se in seguito si potranno aggiungere ma a quanto sto vedendo quest'auto non ha armi ragazzi vedete nelle impostazioni che io sto scorrendo non ci sono armi da selezionare e quindi automaticamente io dico perché rockstar non potevi mettere quest'auto tra i veicoli di leggendari farla pagare un po' di meno evitare comunque che noi la modificassimo dentro al centro operativo mobile e spendere di più ovviamente per il centro operativo mobile per diciamo trasformarlo in officina come ho fatto io io sono stato piccolo l'ho trasformato in officina e ho preferito modificare qui non mi andava di chiamare la vengare però comunque sia la specialità di quest'auto cara rockstar qual è perché ha inserito quest'auto tra i veicoli di di warstock perché io posso capire ok hai messo la batmobile perfetto la batmobile spara ci sta tutto ma non perché io volevo che quest'auto sparasse per me sta bene così perché è bellissima così anzi secondo me l'avrebbero comunque deturpata con qualche mitraglietta e cazzi e mazzi devo dire che è molto bella e a me piace così e per quanto riguarda le modifiche non ci sono grandi modifiche come state vedendo a parte la livrea a parte qualche cazzatina però tutto a livello di motore sospensioni turbo e tutto il resto l'unica cosa che ha di particolare quest'auto che io ho notato poi correggetemi se sbaglio ragazzi se magari ho commesso qualche sbaglio e diciamo è il turbo ok in questa sorta di turbo che oramai rockstar sta buttando fuori un po dappertutto come la mk2 come insomma come tantissime moto ragazzi allora questa è l'auto che devo dire è molto bella a me piace molto anche come l'ho fatta io e poi va bene i gusti sono gusti io l'ho fatta così perché comunque rispecchia il personaggio donna che ho e quindi automaticamente la faccio così certo non avrei potuta oddio magari se mi piaceva qualcos'altro la potevo fare anche in un altro modo però sta livrea mi piace veramente tanto poi con il perlescente blu e i cerchi blu ardesia è veramente bella che altro dirvi ragazzi è un'auto è un'auto che potete collezionare secondo me perché un'auto da collezionare non è una grande auto da da poterci andare in giro in sessione a sparare però è bella da avere secondo me ha il suo stile come ho già detto mi ricorda molto le la classica 24 ore di le manna adesso non mi ricordo che auto in particolare però c'era un'auto che aveva questo style nella 24 ore di le manna ma sto parlando di anni e anni fa non delle 24 ore di le manna recenti ma in quelle vecchissime quindi detto questo ragazzi vedete voi se spenderli questi soldi o se non spenderli potete anche spenderli comprare l'auto duplicarla tenere il clone e vendere l'originale detto questo un saluto al prossimo video